Classe 1939, milanese in forza al Milan, nell'estate del 1962, Sandro Salvadore lascia i rossoneri per la Juventus. È uno scambio che provoca un certo rumore, i bianconeri si privano di un buon attaccante come Mora per puntare su un difensore che è già nel giro della nazionale. Salvadore ha lo stile perfetto per la vecchia signora, sembra un giovane già maturo per la sua aria riflessiva, le poche parole e quell'ammirazione esplicita che ha nei confronti del calcio britannico, segnatamente verso Billy Wright. Old Billy, così lo battezzano i tifosi, che non fanno fatica ad apprezzare il carisma di un giocatore che dietro comanda il reparto come un regista, anche se nel caso è utile alla marcatura diretta sull'attaccante avversario. L'avvocato è conquistato da un giocatore che può essere considerato a tutti gli effetti un soldato al servizio della Juventus. Gli regala subito una Fiat 1500 e nel corso degli anni approfondisce la conoscenza dell'uomo. Probabilmente Agnelli intuisce subito che prima ancora della consegna della fatidica fascia, Sandro è un capitano sul quale fare affidamento. E con lui sono d'accordo tanto boni perti che gli allenatori che si avvicendano alla direzione tecnica della squadra. Salvadore diventa l'uomo di maggiore esperienza di una squadra che dopo lo scudetto del 1967 ha bisogno di una significativa operazione di restyling. E così all'inizio degli anni 70 è lui il condottiero di una lega brigata di giovani che trova in lui la giusta dose di esperienza per navigare nel calcio che conta. Con 460 presenze Sandro Salvadore si colloca tra i grandissimi della storia bianconera. Old Billy ci ha lasciati il 4 gennaio 2007 all'età di 67 anni. Il popolo bianconero lo aveva salutato due mesi prima, il primo novembre, con la consegna della sua maglia numero 6. Libero con licenza di segnare. Si riceva così un tempo per i difensori che uscivano dalla propria zona di competenza e si andavano ad affacciare nell'area avversaria. Nel caso di Salvadore, oltre a una capacità tattica nei tempi di inserimento che lo ha portato a segnare complessivamente 17 gol nella sua esperienza bianconera, va anche rimarcata un'attitudine caratteriale, quell'andare all'assalto nei momenti del bisogno, tipica dei capitani. Ne è un esempio perfetto quel che succede in Juventus Milan del 20 febbraio 1972 e la quarta giornata di ritorno e fra i bianconeri, leader della classifica, e i rossoneri, momentaneamente al secondo posto, c'è un divario di sole due lunghezze. Il primo tempo si chiude a favore degli ospiti, passati in vantaggio con Big On. Per la Juve, perdere significherebbe l'addio al primato in solitaria. Occorre stringere i denti e provare il tutto per tutto. E così, a poco meno di un quarto d'ora dal termine, è il vecchio Billy a farsi trovare pronto all'appuntamento con il golle. Trentatresimo, insiste la Juve, dà capello a Salvadore che tenta l'angolo basso, Cudicini devia in angolo. Lo batte Causio e nella mischia che segue è il destro di Salvadore che infila la rete rossonera, Juventus 1-Milan 1. Un evento che si ripeterà praticamente in maniera identica anche nel torneo successivo, sempre contro il Milan, con la rete del 2-2 siglata a metà della ripresa in quello che è l'ultimo gol di Sandro Salvadore in carriera. La Juventus ribatte con vigore e pare aver ritrovato gli schemi validi, qui è Marchetti che conclude a lato. Al venticinquesimo il pareggio, punizione di Causio, entra di testa Salvadore e infila 1-1. Il suo anno migliore dal punto di vista realizzativo resta comunque il 1966-67. Le sue quattro reti, a Firenze, al Bologna, a Venezia e al Napoli risultano utili per altrettante vittorie e contribuiscono alla conquista del tredicesimo scudetto della Juventus, il primo dei tre ottenuti da Salvadore. Grazie a tutti!